Un'interrogazione scritta per avere informazioni precise sui nostri operatori sanitari. Stiamo vivendo una fase nella quale i tamponi arrivano purtroppo a distanza di 40 giorni dall'inizio dell'emergenza in Abruzzo, anche dopo due settimane. È inaccettabile intanto per gli operatori e evidentemente per i nostri concittadini e la nostra comunità. Così come è inaccettabile ancora la scarsità dei cosiddetti dispositivi di protezione individuale, e voglio conoscere con precisione quanti sono il numero degli operatori che sono risultati positivi nelle strutture pubbliche e private. Quanti di loro hanno ricevuto il tampone a distanza di quanti giorni hanno avuto i loro risultati. Voglio ancora sapere quanti dispositivi sono stati consegnati ai nostri operatori. Si fa presto a parlare di fase 2 ma la realtà è che non c'è stato il governo della fase dell'emergenza. A partire dal tema carissimo e delicatissimo dei tamponi. Ci sono sindaci che hanno atteso troppo tempo, gli operatori tempi infiniti e così anche i nostri cittadini, le persone più colpite, le famiglie che aspettano. Ne aspettano anche troppo. E da ultimo il dramma che dopo gli ospedali ha colpito e sta colpendo le nostre residenzialità, con i tanti anziani ricoverati e gli operatori che lavorano al servizio di queste strutture. Vogliamo sapere la verità perché solo con un'informazione ben precisa si può parlare anche della seconda fase.